E' freddo, no mia? E' un po' strappo. Sì, perché è ottimo, mi vedi un po' così. Tranquillo, è un po' così. Oh, ma Ikemi non ce l'hai? Entra dai. Lei, Adina, sta cena qua. Ciao. Ciao. Che c'era a caso? Ma c'era freddo fuori? Figo sto film, l'avete visto? Ma maniamo? Se necessario, le rivolto questo villaggio come un pedalino, sa? Mi vuole ostacolare le indagini da me. Conosceva qualcuno qua al villaggio? Sì, era arrivata da Roma con un certo architetto. E' pronta a tavola? Stavolta mi è venuta proprio bene, ve? Ma... 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 Grazie a tutti.